Appuntamento Gossip Ed eccoci per un nuovo appuntamento con il Gossip qui a Paroli di Libertà su Radio No Frontiere Allora caro Fedeman cosa c'hai di bello da gossipare con noi? Allora per quanto riguarda il Gossip riallacciandoci un attimino a Daniele Silvenzi dobbiamo dire che il buon Daniele ricordiamo a tutti che era sposato con l'attrice No sposato, aveva avuto due figli dell'attrice Simona Cavallari poi da questa siete a virgolette separato oggi lo vediamo felice papà di un nuovo bimbo da una nuova compagna Questo per dare un attimino di notizie per quanto riguarda Daniele Silvenzi Passiamo poi a Pier Silvio Berlusconi praticamente ha fatto le nozze segrete con i figli Sempre con la sua compagna Silvia Toffanini che ricordiamo a tutti era una? Che era una? Era una letterina cioè ha iniziato la sua carriera Ti devo bacchettare non puoi dire Pier Silvio Berlusconi e compagna nella stessa frase perché sennò qualcuno fraintende Questa è fine che l'ha visto in pochi Non sto scherzando Che figura che ho fatto No no che bacchettare è una battuta Ci mancherebbe Vabbè Pier Berlusconi e compagna Chiediamoci Capisci L'ha capita Luca? Stiamo mettendo un piccolo giro Andiamo con l'appuntamento Dai sto scherzando Ma poi ho chiesto su Pier Silvio Possiamo anche chiudere l'appuntamento con la radio Va bene diciamo dopo questa ampia panoramica di così parte di basso Di compagni Di compagni eccetera Diciamo che Pier Silvio Berlusconi sta un po' preoccupato il papà Che è successo come tu ben sai tutti i figli di papà Berlusconi hanno il popolo uovo di Pasqua Ecco Stanno cadendo Gli uovi Ah no no tutto sta cadendo Che è successo che come tutti sanno forse pochi Pier Silvio Berlusconi è a capo Ha un cognome complesso quindi lo dobbiamo cancellare Sì è a capo di premium Premium Anzi Eh? Nome perché cognome è Berlusconi Vabbè Continua perdona mi crederico Sì non ti preoccupare A tuo piacere poi ti ricordi Perfetto Dotto non faccio il condottore potrò dirlo No Diciamola tutto Continua dai tranquillo scusami Niente Stavo dicendo che Pier Silvio Berlusconi si è visto C'è una corsa Alla Lui ha avuto dal papà in regalo la premium Che sarebbe Una società che si occupa delle carte prepagate a pagamento per quanto riguarda l'apertico Allora che è successo In pratica si è ben nota la situazione del Casa Fininvest dove si stanno comprando le quote di vario possesso dei patrimoni di famiglia E quindi c'è il rischio che Pier Silvio non si veda più a campo di Mediaset Premium perché chiaramente poi c'è sempre Ci sono sempre gli azionisti di riferimento esteri che stanno comprando con grande quantità le azioni Hanno già un figlio di 7 anni, piccolo Manfredi Adesso hanno intenzione di costruire un altro figlio Cioè quindi ci stanno provando Hanno intenzione di costruire con i Lego? Sì No, questo a noi ci fa piacere perché non erano vero le voci per cui la davano per superficialità Ma è soltanto una questione di maturazione Ricordiamo che in questa vogliamo anche dare un piccolo pensiero in omaggio Alla mamma di Stefano Nones, la grande Moira Orfei Che è scomparsa all'età di 83 anni La grande, diciamo, santona del circo E poi volevo dare una notizia che forse qualcuno che ha visto che tempo che fa Avrà sentito in diretta Che è successo? Che durante che tempo che fa Il buon Fazio intervistava la Belen Rodriguez Una che non si fa mai vedere però E allora la Belen Rodriguez candidamente ha ammesso che non era passata le selezioni Lei si presentò alle selezioni come balletta, come di supporto allo stesso presentatore Per quanto riguarda la propria trasmissione Che tempo che fa, non era passata E quindi il buon Fabio Fazio ha detto Che dispiacere che ci siamo persi Poi in seguito si è visto che Belen varieva molto Che dispiacere che ci siamo persi Belen chissà poi come è andata a finire Ha fatto una mezza gaffa perché in studio era presente La Che era presente? Era presente la Melderbach quella svedese Ma non mi spugge il suo nome No non ti preoccupare Però insomma c'è stata questa gaffa E che vedete si è visto Risparmiabilissima Il conduttore ha fatto una gaffa su se stesso Perché dicendo Ci siamo perduti questo fiocco di neve Per dire ha fatto una gaffa in diretta La stessa che era stata prescelta La Melderbach che è sposata Sono cose che purtroppo capita Purtroppo capita Però insomma in diretta non ci dicono queste piccole gaffa E vabbè E d'altro non sarebbe gaffa Se no Possono Senz'altro di abitare Perché poi Belen diciamo è una bellezza Satuaria Ha degli occhi Però un attimino Tutte le vicende di Gosto Ha proprio degli occhi effettivamente Ma no gli occhi Che cosa stai dicendo? No perché tu guardi dietro chiaramente Noi che siamo puliti Guardiamo davanti Esatto No vedi Sarvoliamo sugli occhi Luca tu che guardi di una donna Più dietro In retrobottega O gli occhi? Gli occhi Ecco E' pulito Perfetto Se ne ha zero per gli occhi Guardo dietro Faccio una difficoltà No perché davanti effettivamente Si appara la situation Quindi vabbè Diciamo che Mi dispiace comunque vedere Belen è sempre in ciucci Che la riguarda Non è mai Non ha mai Non prende mai Una casa fissa In che senso E' sempre oggetto Di pettegolizzi Che la vede Un protagonista Eppure il povero Di Stefano Ma che sia stato Disarcionato Come fosse un cavallo Adesso frego in altri omaggi C'è Ahia Ahia Vabbè E se non parla di sui Quindi per la rubrica gossip Penso di avere salito ampiamente Se ci volete dare suggerimenti e notizie Non siamo dei lieti di potervelo dire in diretta Assolutamente sì Ricordo anche i contatti 392 61 65 224 Per sms Whatsapp E telefonati in diretta Oltre che l'email La redazione Parole in libertà Senza l'accento Sulla app C'è gmail Punto com Oppure la nostra pagina Facebook Di Radio Una Frontiere Napoli E grazie Federico Per questo appuntamento Col gossip E che si rinnova La settimana prossima E che si rinnova